natività della vergine maria maria di nazareth era una giovane ebrea molto devota scelta da dio per diventare la madre del messia atteso da israele all'angelo gabriele nel momento dell'annunciazione maria rispose io sono la serva del signore avvenga di me secondo la tua parola maria è la più alta tra tutte le donne evangeli la dipingono come umile obbediente candida e prudente nel momento dell'annunciazione la festa della natività di maria a origine nella chiesa di gerusalemme in occidente si affermò più tardi con fortune alterne a roma la festa fu introdotta alla fine del settimo secolo con una processione dalla chiesa di sant'adriano alla basilica di santa maria maggiore discendente della famiglia reale di re david è patrona di cuba levigno vipiteno e della diocesi di monte oliveto maggiore